Ma che stai facendo adesso? Scusi di fisica, il moto di calda libera, insomma l'abbiamo studiato Ah si, il moto di calda libera fisica, no io lo devo fare insieme a sticco però non l'ho mai fatto Per cui sei tu qui da solo con un po' della macchina Allora, ti aiuto io però sia chiaro, ti prego dimmi che non sai come fare la cosa hanno fatto tutti Sì, ovvero la pallina che va su giù, con la scritta qui indovina quanti al contrario e il super pacco che sto tocando Sì, lo stavo per fare, sì, lo stai per fare Ah, povero, non so qua, non so anche come chiamarti Allora, facciamo così, mo, tu continui a lanciare la pallina, allenati Io arrivo subito, il tempo di studiarmi fisica e ti do la mano Tranquillo, ci metto un mezzo secondo Se notate qualche cambiamento del mio aspetto e perché ho messo le leggi a contatto Oggi vi parlerò del moto di caduta libera Si senta il velu? Grazie Osserviamo il moto di questa pallina Quando viene lanciata in alto, la sua velocità andrà diminuendo a causa dell'accelerazione di gravità che la porta verso terra Fino a raggiungere la velocità zero nel punto più alto della traiettoria Dopodiché cadrà con la stessa accelerazione che ha avuto in salita però in verso opposto E così sarà quasi impossibile riconoscere se va normalmente o al contrario Vedete qualche differenza? Rivediamo la rallentatura Ora al contrario Ed ecco voi spiegato il moto di caduta libera Buona giornata e arrivederci Buona giornata Buona giornata Buona giornata Premata Ehm Ehm Stiamo ancora qua Stiamo montando ancora il set Con la lampada Professionale Farei Professionisti here Senza le cose professionistiche Sono Professionistiche Questo lo ci vedete tant desires Non è più dal inco in italiano è professionista Questo è il treppiedi, questo è il treppiedi per il video camera, questo è l'addetto luce, zaino di Giovanni, questa è la luce divina, quali sono i costumi di scena all'angolo armadio, questa è la postazione editing, questo è il nostro unico attore principale. Questa è la scena, l'ambientazione, il set, inseriamo le prove adesso.